Consiglio comunale animato, quello che ieri a Potenza ha portato all'approvazione del bilancio di previsione con una maggioranza spaccata. Il bilancio consuntivo 2015 e quello previsionale 2016 sono passati a maggioranza in una confusione politico-amministrativa evidente. Solo dopo incontri e mediazioni è stato possibile arrivare ad un lieto fine non senza critiche. Dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giannizzari a quello di Fratelli d'Italia N e Giuzio non sono mancati duri attacchi al PD. Ogni qualvolta arriva il momento dell'approvazione del bilancio, ha sottolineato Giuzio, iniziano i mal di pancia di una o dell'altra parte del PD. Questa volta è toccato all'aria che fa capo a Renzi, infatti alcuni consiglieri hanno evidenziato in commissione che chiederanno un rinvio per l'approvazione dei bilanci pluriennali in attesa di un chiarimento interno. Chiarimento che non può non passare da una nuova spartonza di posti e poltrone. Quando in tempi non sospetti invitavamo il sindaco a non fidarsi del centro-sinistra, non ci eravamo sbagliati. De Luca non ha voluto seguire il consiglio e oggi si trova a sottostare al ricatto di chi vorrebbe imporre nomi e programmi. Per Giuzio bisogna ammettere gli errori politici e valutare la riapertura di un dialogo trasversale. Il capogruppo PD, Carretta, ha invece spiegato di aver votato contro un bilancio diretta conseguenza di un'incauta dichiarazione di dissesto, mossa da motivi ideologici come fin anche detto dal procuratore della Corte dei Conti.